I Or Questa è una sezione del gallo, è molto interessante. Facciamolo a ruoto, facciamolo diretto. I La mano ruota, 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 ruota. Or Ruota, 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 ruota. San Ruota, ruota, ruota. Si Aggiungiamo anche il shui shing pu. I Or I San I Si I Hu Già nel drago abbiamo visto questo. Nel drago abbiamo visto molto questa mano che punta su di lui e continua a puntare su di lui. E controlla. E continua a puntare su di lui. E continua a puntare su di lui, vedi? Guardi i tuoi occhi. Che uno potrebbe dire, non gli faccio niente in effetti, ma se prendo la gola o se prendo un ingo qualcosa faccio, però è già diventa un problema. Tu arrivi? Con qualsiasi oggetto in mano è già diventa un problema perché così non sarò forte ma con una punta sono forte. Capito? Capito Questo modo di focalizzare il cino. Noi lo facciamo anche nel tallangha, ma se è un pò più spigoloso, climbo sul pincio? bravo, proprio così, a questa cosa qui, sempre col gomito piegato, spalla bassa e gomito piegato, bene, proprio così, eh sì, quando apri entra anche sotto, puntando tutti e due su di me, quindi non c'è uno che pare, ma entri, ancora, uno quando apri entra anche, perfetto, ancora, gli punta su di me, non alzi, vai verso di lui, fai il pugno, fai il pugno, non alzo Luca, vado verso di lui, vado verso di lui, quindi faccio io, oh sei bravo, mi raccomando perché se no arriva, sei bravo, rotondo senza zare la spalla, ah no, io lo sento perché con poco sei tosto, io sento un molto solido, e tu non stai morendo di fatica, ora entra con tutta la pancia, aspetta, peso dietro, eh, vinci il gallo dentro di tu, presenta, no, entra dentro, ok, vai, sì, proprio così, ancora, attenta le spalle, iiii, vai, ci serve? Io mi rendo conto perché sento, ok, vai, bellissimo, perché io devo sentire un muro non rigido, ok, e se sento rigidità non va bene, devo sentire un muro non rigido, ok, vai, perfetto, chiaro, questo è il gallo, la sua, la sua intelligenza sta nel passare dal fuori al dentro, e ti lavora sotto, e questa è la sorpresa, questo è che non ti immagini, no, tu sei qui, lui passa dentro, tu vedi quello, ma è lì il lavoro, è lì il lavoro, è lì il lavoro, e a differenza di quello che facciamo nel drago, va avanti con tutto il cuore, sì, mentre invece può facciare nel drago rimanere dietro. Potreste aggiungere nei video le linee, far vedere l'elemento collegato, bravo, è una novità, è una bella cosa, tu stai collegando il cielo anteriore, ai movimenti, all'essenza dei movimenti, in questo caso abbiamo solidità, solidità e mobilità, quindi siamo in? solidità, solidità, mobilità, siamo, no, aspetta, no, adesso è ripreso così, questa è... solidità, solidità, mobilità, vento, no, vento, vento, questo è vento, questo è vento, ma solidità, solidità, mobilità, vento, sì, sì, assolutamente, molto bello, sì, sono da fare, certo, sì. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.